Uno dei grandi protagonisti della vittoria dell'Arogarve, ancora provatissimo dalla partita, guarda il tabellone, ancora non ci credi? Effettivamente sì, non c'è ancora una attiva a crederci, però siamo stati veramente bravi, perché quando loro rungavano più 5, più 6, non siamo sempre stati bravi a recuperare il pallone in difesa, abbiamo costato due volte l'infrazione di passi, disto la linea di fondo, poi siamo andati in attacco, abbiamo fatto canesso, per cui siamo stati veramente bravi. Cosa si prova? Vincere i supplementari dopo la beffa di Montichiari? È una bella soddisfazione, perché diciamo che ci hanno portato via una vittoria la settimana scorsa e noi con gli obbundi persi a Montichiari li abbiamo riguadagnati oggi.